Musica Benvenuti a Savignano Irpino, uno dei borghi più belli d'Italia, situato a pochi chilometri dalla Puglia in provincia di Avellino in Campania. Questo è il corso Vittorio Emanuele, il corso principale che ci porterà alla scoperta dei principali monumenti del caratteristico posto, un posto situato a circa 700 metri sul livello del mare che ha conservato un centro storico abbastanza intatto che è testimonianza del suo passato. Savignano è un accogliente rifugio nella valle del Cervaro, circondato da campi fertili coltivati a grano e a fieno, ricoperti di uliveti e vigneti che testimoniano la sua storica vocazione agricola. La facciata neoclassica della chiesa madre è una rilettura dello stile romanico. Ci troviamo sul punto più alto dell'abitato dove sorgono i ruderi del castello dei Guevara, un castello sorto con funzione difensiva in epoca longobarda, poi trasformato in fortezza dai normanni. Successivamente acquisito dalla famiglia dei Guevara divenne Palazzo Signorile. Da qui si può ammirare uno splendido panorama sul paese. Grazie a tutti.